Bello a tutti ragazzi, oggi sono su Granny per farvelo vedere che avete un po' di paura quando spuntano Granny. Intanto io faccio play e cominciamo ragazzi, continua, e ancora continua. Io quando l'ho provato la prima volta, quando l'ho provato ho avuto il cacasa, il cacasa, il cacacasso sotto. Attenzione, si, incomincia. Ragazzi, intanto io mi nascondo qua. No, aspetta, sto incominciando ad avanciarvi. Non c'è niente. Anche non c'è. Che maco! Oh ragazzi, ragazzi, mi sono nascosto. Chi è? Chi è? Chi è? Chi è? Ragazzi, sono spaventatissimo. Oh, non sta venendo. Non mi deve vedere. Non mi deve vedere. Che sto facendo, raga? No, ragazzi. Sto avvenendo, sto avvenendo. Non mi dire che apre la porta. Perché se no siamo rovinati. Siamo rovinati. Sto avvenendo. Sto avvenendo. Sto avvenendo. Regazzi. Ragazzi, adesso inizia il giorno 2. Io non avevo capito. Era una trappola. Intanto io mi vado a nascondere qua. Sì. Puoi fare anche così. E qua. E qua, Granny. Non apriamo la mano. Aiuto! Sto prendendo il ca** che sta a c**o. E qua, sentite i passi, mi fa paura, mi fa tanta paura, ecco, si è andata, meno male. Che minchiera, che minchiera, ragazzi, mi sono spaventato, aiuto. Aspetta che questa è la pubblicità, ragazzi, non so voi, lasciate un commento se Granny mi spaventa così tanto. Ecco, di nuovo. Cione, io proseguo sempre. Che spavento, ragazzi, mi ha fatto l'imboscata. Sono davvero... Non ci posso credere. Ma dov'era? Non l'avevo vista. Sto a Granny. Mi fa davvero spaventare l'aspetto che penso, la pubblicità, che è... Sempre... Con questi giochi... Ho avuto la pubblicità. Comunque, anche se sto registrando per un giorno Granny... Anche se sto registrando per un giorno Granny... Non vuol dire che ho finito di... Con le puntate di Bruce Hart. Ancora continuo. Io... Sto... Vi sto facendo vedere... Per farvi vedere... Per farvi vedere... Questo gioco. Per farvi vedere questo gioco. Ragazzi... Avete visto? Avete visto? L'asta è entrando. Sto entrando, ragazzi... E' là... Non so cosa sta guardando... E' là... E' là... E' là... E' là... E' là... Chissi... E' là... Vfolgetti... Che sto succedendo... Non so... Che cosa sta succedendo... Vastico... L'assassinato Sta granny maledetta Ok adesso il video è terminato qua Spero che vi è piaciuto Lasciate il like qui sotto in descrizione E anche dei commenti Dei commenti se vi ha fatto paura questo gioco E alla prossima Bella